Riccardo Gollini, bastavano due set, li avete vinti con l'approccio giusto, poi è arrivato il 3-0 in poco più di un'ora, insomma una serata perfetta Sì, siamo stati bravi, ci eravamo detti di partire forte, subito i primi dieci punti del primo set erano molto importanti, siamo stati molto bravi e abbiamo portato a casa quello che volevamo, quindi il passaggio del turno e anche in tre set, quindi siamo molto contenti Un'occasione per riprendere il ritmo, lo si è detto, dieci giorni di stop, mi è sembrato che il ritmo già ci sia Sì, siamo stati bravi, abbiamo lavorato tanto questi dieci giorni e penso che oggi si sia visto, abbiamo fatto una bella partita non era facile perché eravamo fermi da dieci giorni ma siamo stati molto bravi secondo me Domenica si riparte, il campionato, c'è Padova prima di ritorno, all'andata non è andata benissimo, eh Padova? Esatto, dobbiamo riscattarsi dalla partita dell'andata e sappiamo che è una partita dura come quella di tutto questo campionato ma ci siamo preparati appunto bene questi dieci giorni per affrontarla al meglio Sei tornato in campo, come stai, come va? Bene, bene, sto bene, oggi ho avuto l'occasione di tornare in campo, sono molto contento di questo e continuo a lavorare come sempre